Sto trasmettendo dal mio canale radio, questa per questa mattina sarà la mia ultima, ma non finale edizione, perché oggi ho intenzione di farne tante e poi domani sarà un altro giorno, ma intanto oggi e oggi, ieri, già è stato ieri, forse dopo domani anche sarà un altro giorno e io lancio quest'ultimo programma di questa mattina dicendovi di ascoltarlo attentamente, ma sarà breve e quindi per quanta attenzione vi prestiate finirà comunque inesorabilmente prima degli altri e allora se vorreste continuare a sentirmi, a parte gli altri postcast di Spreaker, potete contare niente di meno con i miei postcast video di YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Twitter, cercando San Ten Chan, ho caricato un ultimo video ieri nel canale YouTube San Ten Chan, titolato San Ten Chan, per tema a San Ten Chan e se lo cercate la parola chiave che vi ho messo è… bravi, avete indovinato, la parola chiave è San Ten Chan, è lo stesso fatto in Vimeo e in Dailymotion, che ho caricato un video sempre lo stesso, titolato San Ten Chan, con il testo San Ten Chan e con le parole chiave San Ten Chan, allora… e poi è fatto da San Ten Chan, cioè da me, è un video fatto da San Ten Chan, titolato San Ten Chan, con la descrizione San Ten Chan, con la parola chiave San Ten Chan. Buon San Ten Chan a tutti! Io metto questo postcast che adesso trasmetto broadcast come Rome Italy, perché così anche gli stranieri che cercano qualcosa d'Italia mi possono sentire e vanno al canale San Ten Chan di YouTube. Voglio fare tre minuti, mancano dieci secondi, un saluto a tutti per seguirmi e tantissime grazie. Arrivederci, adesso vado a leggere e per poter fare un video sui libri. Ciao! E un saluto particolare va a Marco Travaglio, che gli ho mandato molti video, ma non ha ancora avuto il tempo di rispondermi perché io voglio essere collaboratore. Giornalietta! Ciao!